buongiorno buongiorno ragazzi in questo nuovo video con coach alessia andiamo a vedere un esercizio di torsione quindi per migliorare sempre la nostra torsione ed annullare così la catena obliqua del nostro corpo a terra una versione più avanzata ci andiamo posizionando a terra pancia in alto da questa posizione ci ribaltiamo in decubito laterale sinistro una volta posizionato il decubito laterale sinistro con le mani una sull'altra le ginocchia all'altezza dell'obelico andiamo a staccare il braccio superiore e andiamo ad aprire il nostro busto quindi qui sarà importante ad avere le spalle entrambe appoggiate a terra e lo sguardo rivolto verso l'alto come se fossi sdraiato a pancia in alto sul tuo aletto una volta posizionato e che sei riuscito ad appoggiare bene entrambe le spalle a terra in questa posizione proviamo a rendere più efficace l'esercizio andando ad allungare la gamba di sopra in avanti quindi andiamo a distendere la gamba distesa e appoggiarla davanti in questo modo andiamo ad allungare la tensione e l'allungamento su tutta la catena trasversa se riesci a mantenere bene questa posizione le tue spalle e le mani sono ben appoggiate incollate a terra puoi provare a incrementare la difficoltà dell'esercizio passando alla versione più avanzata quindi da questa posizione andrai ad allungare la gamba verso il basso quindi la gamba sotto verso il basso e cercherai di portare sempre la gamba sopra in avanti distesa mantenendo la posizione raggiungendo questa posizione cerca di sempre di mantenere le spalle completamente appoggiate a terra con facilità se riusciamo ad appoggiare le spalle con facilità a terra vuol dire che hai un buon grado di mobilità di tutta la catena trasversa se sei in compagnia del tuo allenatore il tuo compagno puoi utilizzare questo esercizio anche per andare a sbloccare il bacino in questo modo vai a posizionare una mano sulla spalla sinistra l'altra mano sul fianco sull'anca destra e da questa posizione vai a applicare una leggera pressione ritorno di nuovo spingo di nuovo lascio di nuovo spingo se il compagno che stai cercando di aiutare ha un bacino bloccato e dopo due o tre pressioni che andrai a dare sul bacino probabilmente sentirai un croc e ti avrai sbloccato anche in questo caso Ale oggi è già sbloccato quindi non è successo niente puoi utilizzare questa manovra anche per aumentare l'efficacia dell'esercizio e quindi applicare una maggiore allungamento inizia ad applicare questo esercizio che è molto utile quindi ti permetterà di migliorare con dei grossi progressi la tua mobilità in torsione di tutta la colonna e ad andare così a diminuire le tensioni a livello di catena trasversa per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video e stai con me